Si è fatta la diagnosi, la malattia è facilmente curabile, perché è un batterio, quindi si cura con l'antibiotico. Aumentano i casi di scarlattina fra i più piccoli. Con il rallentamento dei casi Covid salgono le infezioni da streptococco. Tra le cause, anche la fragilità causata dai due anni di pandemia, vissuti fra mascherina e isolamento. I più colpiti sono i bambini tra i 3 e gli 8 anni. Non si tratta soltanto di streptococco, ma abbiamo visto anche altre malattie infettive, come il virus respiratorio sinciziale, come l'influenza, che nel periodo pandemico erano praticamente scomparse, hanno ripreso con particolare virulenza dopo il periodo pandemico. C'è stato un periodo in cui sono un po' andate in letargo, in qualche maniera, e poi hanno ripreso con tutta la virulenza, ricircolare quasi, diciamo, a recuperare il tempo perduto. Quando altri virus circolano, i batteri poi possono avere il sopravvento. Infatti abbiamo visto una facilità di sovrapposizione in situazioni come l'influenza, come la varicella, come l'herpes zoster, situazioni in cui il soggetto è già immunodepresso, per cui il batterio arriva e prende il sopravvento, si instaura e provoca la malattia. La pediatra tuttavia rassicura i genitori sull'efficacia delle cure contro la patologia. Nessuna preoccupazione, perché se viene instaurata la terapia antibiotica non c'è rischio assolutamente di complicanze. La terapia, anche se la terapia dovesse essere iniziata con qualche giorno di ritardo, può accadere, noi ci troviamo di sabato, non troviamo il nostro pediatra e quindi c'è difficoltà di trovare la guardia medica a volte. Cioè non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo fare corsi al pronto soccorso, perché comunque iniziare una terapia con qualche giorno, 5-6 giorni di ritardo, abbiamo visto, comunque non si hanno complicanze. All'aumento dei casi di infezioni da streptococco si aggiunge in questo periodo la difficoltà nel reperire in farmacia i medicinali, idonei a combatterla. La causa ancora non si è spiegata, si pensava alla guerra, si pensa alla carenza in materie prime, sia dei farmaci ma soprattutto anche del packaging e adesso in questo caso la moxicilina in questione, sicuramente la carenza è causata da questa recrudescenza della scarlatina che ne provoca un aumento di consumo. I medici a questo punto sono quasi obbligati a passare a un antibiotico più complesso, che magari non serviva, con tutte le problematiche che ci possono essere, cioè l'assunzione di un principio attivo in più, l'assunzione di un prodotto magari più potente per un problema più leggero, con la possibilità anche di provocare la resistenza batterica di alcune cose.